In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli. Il caso Sara Pedri, la sorella Emanuela. Le ricerche continueranno finché la riporteremo a casa. Negli scorsi tre giorni, intense attività a Santa Giustina, ma esiti negativi. Dalla piccola e demagri fuori dal Piazzi T. Andiamo avanti guardando l'Alleanza Democratica per l'Autonomia, dove ritroviamo il nostro quadro di valori. Emergenza e rifiuti, differenziata ferma dal 2013 con Alto Garda e Val di Sole, maglie nere nella raccolta. Il termo valorizzatore? Il vicepresidente della provincia Mario Tonina dice, difficilmente evitabile. Modifiche e contratti, Dolomita Energia dopo l'avvio dell'istruttoria dell'Antitrust, attività partita ben prima della nuova norma. Anche il Centro Consumatori chiede chiarimenti. Non cadono le foglie, rischio nuove fioriture e pungono ancora le zanzare. Poi diretti lancia l'allarme sull'autunno bollente e a rischio siccità. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. CAFACLI ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali. Scadenze fiscali e previdenziali rispettate, uno strumento per la fatturazione elettronica, servizi anche online e a distanza. Contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con CAFACLI